Crescono le iscrizioni a scuola nella frazione di Pozzetto a Cittadella e così il Comune chiede alla Regione l'autonomia della scuola di infanzia da quella di Via degli Alpini. Inaugurato nel gennaio 2012, il Plesso è iniziato a operare con 10 classi di scuola primaria e 3 sezioni di materna. Da settembre però gli allunni sono aumentati e così si sono formate due classi di scuola di infanzia che ora chiedono alla Regione di venire giuridicamente scorporate da Via degli Alpini assumendo autonomia quale quarta scuola di infanzia statale all'interno dell'Istituto Compressivo Cittadellese.